Ci troviamo a Rimini, nell'azienda agricola Pesaresi Lorenzo. Siamo un'azienda di circa 50 ettari, produciamo prevalentemente lattughe, ma anche sedano, cicoria, vietola da coste e finocchio. Siamo socio Agribologna e l'azienda produce prevalentemente per la grande distribuzione e per la quarta gamma. La nostra problematica maggiore in azienda è la sclerotinia, per la quale stiamo adottando delle strategie innovative per risolvere tale problema. Una delle problematiche più importanti che stiamo affrontando in agricoltura a livello mondiale, possiamo dire, è rappresentata proprio dalla stanchezza dei suoli, che si manifesta con un abbassamento sostanziale, importante, drammatico della fertilità dei nostri suoli e spesso con un'esplosione dei patogeni che distruggono le nostre culture, come nel caso, ad esempio, della sclerotinia che determina il marciume del colletto. Il suolo è un organismo vivo. La sua componente viva è rappresentata sostanzialmente dalla presenza dei microrganismi che lo abitano. Il suolo è abitato da miliardi e miliardi di tipi di microrganismi, funghi, batteri, microalghe, che interagiscono con la pianta. Quando questa componente manca, la pianta soffre e manifesta la malattia. In effetti, le interazioni che avvengono nel suolo sono di diverso tipo. I microrganismi dialogano e interagiscono con le piante attraverso fenomeni di endofidismo e di simbiosi che noi sfruttiamo per dare vita alle nostre culture. Abbiamo messo insieme la conoscenza dei biostimolanti, quindi dei prebiotici, con la conoscenza dei microrganismi, l'utilizzo dei microrganismi, quindi dei probiotici. E questa è la nostra grande innovazione in agricoltura. Biolchim sta portando avanti questo progetto, il progetto di Zosfera. L'izosfera è proprio la zona più adecente alla radice dove tutte queste relazioni tra microrganismo e pianta avvengono dall'interno del suolo. In questo caso noi abbiamo attuato una strategia mirata. Abbiamo utilizzato il nostro T34, il Tricoderma Asperellum Cepo T34, che è il nostro probiotico e che abbiamo applicato insieme al prebiotico, cioè il Nova. Il T34 è un prodotto che ha delle caratteristiche particolari. Prima di tutto è un prodotto registrato in agricoltura biologica, non lascia residui, non da fenomeni di resistenza, perché i fenomeni di cattura, di parassitismo del Tricoderma nei confronti dei patogeni si verifica attraverso due fenomeni. L'attacco diretto al patogeno è anche la produzione di antibiotici, quindi un'antibiosi nei confronti dei patogeni. È una soluzione estremamente innovativa, che da una parte dà l'opportunità alla pianta di superare le situazioni di stress in modo naturale. Dall'altra parte invece la biostimoliamo, quindi controlliamo la malattia, biostimoliamo la pianta. Ma la cosa più importante, noi abbiamo cura del suolo, perché curando il suolo curiamo anche le piante. Noi innoviamo, tu raccogli.